Ok, rivediamo il prossimo schermo dei fistici della testa. Abbiamo visto il prodotto somma per differenza di due quantità, che possono essere monomi o meno. Che è dato dalla parte che qui è indicata con A maiuscolo, che tra la prima e la seconda parentesi non cambia segno, che assume lo stesso, alla seconda, meno B grande, che è la parte che cambia segno, la differenza di qui ho più B e qui ho meno B, quindi meno alla seconda, cioè il primo che avevamo visto. E poi, quindi il binomio c'è la somma di due grandezze al quadrato, cioè moltiplicato per se stesimo. Questo qua è il quadrato del primo terno, più due volte il primo che è il secondo, due volte A per B, più il secondo terno al quadrato. La difficoltà qui è A ricordarsi le due espressioni e applicarle in modo corretto, cioè identificare correttamente cose A e cose B. , come sempre, dovevamo dire correttamente più baschi e dimensioni dal quadrato. E' quello qui è una mia spensa di un cima Ancernen o che non?? E' questo me Zanino. Non parolevolvo in parte. meno x più 8 alla seconda qui ovviamente si tratta del quadrato della somma di due grandezze la prima è meno x, la seconda è 8 più 8 quindi ho la prima al quadrato, meno x alla seconda più due volte la prima che è meno x per la seconda che è 8 più la seconda parte, meno x alla seconda fa x alla seconda meno, quindi da più, un quadrato poi ho più per meno per più, meno quindi 2 per 8, 16 e poi rimane la x e infine più il quadrato di 8 ok grazie C'è l'impianto. non è il quadrato del binomio ma è una somma per la differenza di quella somma scritta dopo e il termine che cambia segno viene per primo quindi ciò che non cambia segno è il 2 in questo caso la parte di A maiuscolo è recitata dal 2 mentre un mezzo A è ciò che cambia segno quindi questa è la parte che non cambia segno la seconda meno la parte che cambia segno quindi un mezzo A quindi 4 meno un quarto A quindi chiaro? adesso viene in teglia riscalderebbe se avessi questa 2Y meno 1 più 3A per 2Y meno 3A meno 1 bisogna essere creativi questo è un prodotto notevole sì no non so avete 3 opzioni sì di che tipo? somma per differenza somma di cosa per differenza di cosa? beh cioè del tipo A più B per A meno B cioè A alla seconda meno B identifichiamo A maiuscolo che cos'è che apparte nello stesso modo nella prima e nella seconda parentesi lo diciamo così prendiamo in giallo 2Y e 2Y e poi c'è il meno 1 e il meno 1 quindi c'è questa è la parte che non cambia il segno che è identica prima e dopo non importa se viene spostata un po' è la stessa e poi cambia il segno 3A e il meno 3A quindi A grande è 2Y meno 1 mentre B grande è 3A A grande è tutto 2Y meno 1 non solo 2Y quindi copio quello che c'è scritto dopo l'uguale 2Y meno 1 tutto la seconda meno 3A ma questo è un altro prodotto notegro il quadrato è il binomino quindi il quadrato del primo 4Y alla seconda il loro doppio prodotto 2 per 2Y per meno 1 fa meno 4Y e il quadrato di meno 1 fa più 1 e poi il quadrato di 3A meno 9A ok ok attenzione e andremo di migliorare di migliorare il prodotto del quadrato di meno proviamo un altro e il quadrato di meno 1 2Y più 1M più 1M xY più 1M qui la parte che non cambia segno è x la seconda e x la seconda la parte che cambia segno è 1M è 1M xY meno 1M meno 1M meno 1M xy e il quadrato il quadrato è la parte che cambia di segno ma questo è il quadrato di un binomino quindi il quadrato del primo x alla quarta dopo il prodotto 2X alla seconda y alla seconda quadrato del secondo y alla quarta meno 1M un quarto questo secondo attenzione qui non abbiamo finito perché ci sono due termini simili quindi basta questa e quindi posso sonare ok 2 meno un quarto quanto fa? 2 per 4 è 8 meno 1 7 7 quarti x alla seconda x alla seconda questo vale ok x alla quarta più 7 quarti x alla seconda x alla seconda ok grazie I prodotti ocevoli, come avete già visto, possono anche trovarsi all'interno di espressioni, non solo da soli. Prendiamo ad esempio questa espressione. Se calcoliamo, un mezzo meno a, tutta la seconda, meno tre volte, parentesi, a meno di un mezzo, per chiusa, per parentesi, a più un mezzo, più due volte, a meno uno, alla seconda. Semplifichiamo questa espressione usando ovviamente, quando necessario, i prodotti notevoli. Questa espressione contiene i prodotti notevoli? Sì. Sì, se sì, sì. Quali e quanti? Quadrato del binomio, somma per differenza, altro quadrato del binomio. Sono tre prodotti notevoli dei due tipi, appena visti. Cominciamo per il primo, quadrato del primo, doppio prodotto e quadrato del secondo. Il quadrato di un mezzo rende un quarto, due volte un mezzo per meno a fa due volte il primo per il secondo, e due volte un mezzo per il secondo. Non è il secondo né il quadrato, è due volte, attenzione, qui non c'è due a alla seconda e b alla seconda, c'è due a b. Non si fa il quadrato di questo o di questo, nel doppio prodotto. Dovete prendere dai mila, qua. Di conseguenza, qui ho due volte un mezzo per meno a. Un mezzo fa uno, uno per meno a fa meno a. E poi quadrato del secondo più a alla seconda. Poi ho meno tre per queste due parentesi. Conviene prima svolgere il prodotto notevole e poi moltiplicare per meno tre. altrimenti perdo il fatto che voglio un prodotto notevole. Quindi mantengo meno tre per, parentesi, in questa parentesi metto il risultato di questo prodotto. Quadrato del primo, alla seconda, meno il quadrato del secondo, un quarto. Poi anche qui più due. Prima sviluppo il quadrato e poi moltiplicherò per due. a alla seconda, meno due a, più uno. Adesso togliamo le parentesi. Prima parte del riporto, un quarto, meno a, più a alla seconda, meno tre a alla seconda, più tre quarti, più due alla seconda, meno quattro a, più due. Qui abbiamo, a alla seconda, più due alla seconda, a alla seconda, più due alla seconda, quanto fa? Tre a alla seconda. Poi abbiamo, meno a, meno quattro a, meno cinque a. e in qui c'è, un quarto, più tre quarti, che fa? Quattro quarti, che è uno, più due, tre, più tre. E il gioco è fatto. Mi pare di avere, prego. Ah, ho dimenticato questo, sì. Chi è vestito? Chi è vestito? Allora, a questo punto, a alla seconda, più della seconda, meno della seconda, qua, va, va, e quindi questo lo cancelliamo. Fattemi ricontrollare. Un secondo, ok? Un cinque, quattro quarti, in via, ok? Ok? Frente quadra, tonda, x più uno per, a alla seconda, x meno uno, più da quadra alla seconda, meno, fonda, due più x alla seconda, più alla seconda, più, tre metti, due x meno tre, per, due x più tre. Qui, quanti e quali prodotti notevoli ci sono? C'è somma per differenza, un prodotto notevole, poi c'è il quadrato di quello che otteniamo da questo, il quadrato di un altro binomio, e un'altra somma per differenza. Quattro prodotti notevoli. Facciamo prima il prodotto da quattro quadri, x meno uno per x più uno, e da, quanto fa x più uno per x meno uno? x alla seconda, meno uno. Ecco, ragazzi. Poi, meno, il segno lo cambiamo dopo, facciamo il quadrato di questo, quattro più quattro x alla seconda, due x alla quarta, quadrato del primo, dopo il prodotto, quadrato del secondo, più, tre metti, due x alla seconda fa 4x alla seconda, meno tre alla seconda fa meno uno. Ok? Facciamo anche l'ultimo prodotto notevole, quello del quadrato, x alla quarta, meno due x alla seconda, più uno, togliamo la parente, spendiamo i segni, meno 4 meno 4x alla seconda, meno x alla quarta, e svolgiamo il prodotto per tre mesi, tre mesi, dove hai tre mesi per quattro, fa c2, 4 per tre, 6, x alla seconda, e poi ho tre mesi per nove, ventisette mezzi. E poi, vediamo. bella. Quindi, danno l'occhiata, e quindi, ok, una x alla quarta, meno x alla quarta, ok, poi abbiamo meno x alla seconda, meno 4x alla seconda, più 6 alla seconda, anche a zero, e poi abbiamo 1, meno 4, meno 3, meno 27 mesi. Mi pare, più una riapita. Niente. di meno, meno 6, meno 27, quindi, meno 30, domande? se non ci sono domande, andiamo a vedere, vediamo se, se vanno ancora qui, il prossimo, il prossimo, mantevole, che è, il quadrato, dei trinomini, ah, il mese, non so più, un po', un po', un po', un po' quattro, giusto? Supponiamo di aver fatto il quadrato, non di un binomio, ma di un trinomio, questo ovviamente, lo sviluppo, di questo, prodotto notevole, conterrà, come caso particolare, quello del binomio, dovremmo ritrovare, il quadrato del binomio, quando c è 0, quindi, questa, se volete, è, una generalizzazione, del quadrato del binomio, vediamo, nello stesso moto, facciamo per adesso, il prodotto, della parentesi, per se stessa, così vedete, da dove viene fuori, la regola, che si chiuderemo, qui avanti, quindi, ognuno, dei termini, del primo parentesi, per ognuno, dei termini, deve essere fondata, avremo, 3 per 3, 9 termini, di cui, alcuni, saranno simili, io, a per a, alla seconda, più, ab, più, ac, quando moltiplico, a per tutti e tre, questi termini, poi io, b, per a, che fa ancora, ab, più, b alla seconda, più, c, e infine, c, per tutta la seconda, parentesi, ac, più, bc, più, c alla seconda, e anche ac è pari due volte, due volte, ac, più, bc, e bc, due volte, bc, quindi qua, il trinomio, è dato da tutti e tre, i termini, ecco lo tanto, e tutti, io, dopo i prodotti, primo per secondo, primo per terzo, secondo per terzo, se c fosse zero, ritrovate, sparisce questo termine, spariscono questi due, ritrovate il quadrato di epitomia, guai, ok, tutto chiaro? a, e, 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 quando deve riscrivere, a, più b, più c, seconda, a, seconda, 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 più 2, a, per b, più, 2, a, c, più 2, per b, c, 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 6 termini esercizio supponiamo di fare questo quadrato 3A quindi 2B il primo termini è al quadrato 3A seconda più 2B seconda più seconda più due volte il primo per il secondo 3A per il B più due volte il primo per il terzo 3A per il C più due volte il secondo per il terzo quindi posso cambiare pagina adesso basta togliere il parente per fare i prodotti le potenze abbiamo 3A alla seconda che fa 9A alla seconda 2B al quadrato che fa 4A alla seconda con C alla seconda poi abbiamo 2 per 3 per 3 per 2 che fa 3 per 4 12 AB più 12 AB più 6 2 prego più 2 per 3 che fa 6 AC infine infine abbiamo 2 per 2 per 1 4 B C tutto chiaro? facciamo un'altra 4 3x meno 1,5 y più 4 la seconda ovviamente dovrò applicare la stessa espressione rispettando i 6 quindi ho il quadrato di 3x che mi dà 9x alla seconda 9x alla seconda il quadrato di meno un mezzo y che è più un quarto x più un quarto y la seconda il quadrato di 4 7 ecco poi ho 2 volte 3y per meno mezzo y lo scrivo più 2 volte 3y per meno un mezzo y voglio più 2 volte 3x per 4 e infine più 2 volte meno un mezzo y per un altro tutti i propri prodotti e infine secondo me ho penso successivi questo è di coppia 9x alla seconda più anzi ti dà una parte successiva domande di 4 questo mi darà 2 per meno un mezzo fa quanto fa 2 per meno un mezzo meno 1 per 3 fa meno 3 quindi da questo verrà meno 3x y ok 2 per 3 per 4 24 24 6 per 4 24x 2 per meno un mezzo meno 1 per 4 meno 4 quindi da qui viene meno 4y ok riscrivo riscoppiamo i quadrati 9x alla seconda più un quarto più più 16 poi ho per primo meno 3x y poi ho 6 per 4 20 più 24x e infine avevamo meno 4 si ok il uso non termine di schien e ci teniamo se ne sarei un'altra di che esce un'altra di un'altra un'altra di un'altra di un'altra di un'altra Chiara, se avete già visto il file con la normazione, lo trovate anche sui cittadini. Ora facciamo un'altra. Per esempio, meno 3x alla terza, più 3x alla seconda, più 3x alla seconda, più 3x alla seconda. Più 2x alla seconda, più 2x alla seconda, poi più 2 volte il primo per il seconda. Quindi 2x alla terza, più 3x alla terza, più 2 volte il primo per il terza, meno 3x alla terza, per meno 2, più, ultimo, 2 volte il secondo per il terza. prendere x attenzione a rispettare i segni abbiamo 9x alla sesta più 9 quadrati di questo 9 quarti x alla seconda più 4 poi abbiamo 2 come ne fa la prima 2 per 3 mezzi che fa 3 per meno 3 meno 9 x alla terza per x meno 9 x alla quarta poi abbiamo 2 meno per meno fa più più 2 per 2 4 per 3 6 3 per 4 12 12 x alla terza ultimo termine più per più per meno 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 2 per 3 mezzi 3 per 2 6 x meno 6 x 4 ok d'accordo? ci sono termini simili quindi ce lo teniamo attenzione ai segni ok il quadrato è non sempre il segno positivo ma i doppi prodotti hanno un segno che dipende dal segno dei fattori adesso vi fermo qualcuno viene a fare un esercito alla lavagna se qualcuno che vuole provare qualche ardimentoso grazie